La campagna di vaccinazione anti-covid-19 prosegue anche nelle Marche, dove nella giornata di ieri sono stati effettuati i primi richiami per il personale dell'azienda ospedaliera Marche Nord, che poco più di 20 giorni fa si era sottoposto alla prima dose del vaccino. Tra i sanitari presenti c'era anche la dottoressa Margherita Lambertini, medico del pronto soccorso che durante il simbolico Vax Day dello scorso 27 dicembre aveva ricevuto per prima l'inoculazione del Siro-Pfizer. Se per circa una ventina di dipendenti Marche Nord il percorso è quindi terminato, tanti altri sanitari si apprestano già a partire da questa settimana ad effettuare il richiamo. La campagna di vaccinazione quindi non si ferma e nella giornata di ieri sono stati più di 400 i medici, infermieri e altri operatori che si sono recati all'ospedale di Muraglia per essere vaccinati. È stato inoltre confermato che le Marche rientrano nella lista delle poche regioni in Italia che non saranno soggette ad una riduzione della consegna delle dosi del vaccino Pfizer. La casa farmaceutica ha infatti annunciato nei giorni scorsi un taglio delle forniture previste per l'Italia, ma per quanto riguarda il territorio marchigiano è già stato confermato l'arrivo delle oltre 10.000 dosi settimanali previste. Sempre per quanto riguarda l'ospedale Marche Nord entreranno in funzione a breve altri 17 posti letto di terapia intensiva, che si vanno ad aggiungere ai 14 attivati a fine dicembre e ad altri 12 dedicati alla terapia semi-intensiva, come ricordato dal vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni che attraverso il suo profilo Facebook ha mostrato l'avanzamento dei lavori nei nuovi locali della Palazzina F. Nel frattempo il servizio sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.340 tamponi, 1.454 nel percorso nuove diagnosi, di cui 984 nello screening con percorso antigenico e 886 nel percorso guariti, con un rapporto di positivi testati pari al 10,8%. Numeri in calo come ogni inizio settimana, basso quindi anche il numero di positivi nel percorso nuove diagnosi, che a livello regionale ha riscontrato 157 casi, 13 di questi appartenenti alla provincia di Pesaro e Urbino. Ancora alto invece il numero delle vittime nel territorio marchigiano. Nella serata di ieri sono stati notificati 11 nuovi decessi legati al Covid. Uno di questi, un uomo di 89 anni, era residente nel Pesarese.